Dove è l'altro che mi va a portare le spalle? Arrivo, arrivo, si è tolto la cosa finalmente Questa è la scritta che avevo in mezzo al computer Nella scheda video Come si era scaricato il mouse, mi si era formato una cosa lì Andiamo, andiamo Sbaglio io o ce l'ha qualcuno? Edwin, Edwin, l'acca troppo Ah ecco, che non va a coltello, cazzo Gli a coltello mi spariscono davanti Solo Edwin Eccolo Edwin Eccolo qua Che cazzo Un secondo, dietro, dietro, anche qui Un secondo Un secondo Che cazzo che non è che coltello non è che Attenzione Un secondo Un secondo ah guarda chi è entrato guarda chi è entrato dov'è la tua amichetta si si madonna ma che caccia mi è sparito davanti a chi ha coltellato lì spartacus a te o a giunica eh non lo so guarda mi è sparito davanti guarda 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 come cazzo che non non vai coltellato ma dai ma che cazzo mi sparisci davanti ah fanculo ah che cazzo che cazzo che cazzo ahahah non ho volato caccia guardate troppo 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 troppi veloci guardale guarda che velocità ce l'hanno come laggala c'è un giocatore che mi sparisce davanti, non so chi è eh si, anche a me mi sparisce davanti ecco lo spartano è difficile cazzo ma sparta con questo qua è passato vicino a me ma neanche non mi ha visto che ero dietro di monabel però mi ha coltellato lo stesso è un uomo a terra! guarda 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 cazzo si dove cazzo è sparito? ma che spariscono davanti? due due con coltello in vuoto eh non mi ha un cazzo no! sono andato a terra! mi piace! ho lanciato a bomba a destra e andato a sinistra ma guarda che velocità ce l'hanno no non è entrato coltello cazzo di nuovo dietro dietro cazzo di nuovo dov'è? siete salvi? si 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 arriva 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 c'è un altro lì dentro cazzo di nuovo uno è scappato alle spalle io e jama stiamo giocando con una levetta una levetta la levetta a sinistra stiamo giocando solo capito? no la levetta a sinistra che levetta a sinistra? che levetta a sinistra? che levetta a sinistra? la levetta a sinistra ottimo lavoro si si non so se è online la partita si guarda toro toro si 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 non ho entrato ancora las that's ok ti sono un uomo a terra dove sei dove sei s Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. E calcola che non siamo giocati in modalità scarsa noi. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ma pure! Oh no, ci copriamo ancora una volta. Oh no, ci copriamo ancora una volta. Oh no, cazzo! Ci sono detto a togliere, ecco perché non va. E un po' più veloce. Come ho fatto, come faccio adesso, però... Ciò va con la levezza, nuto, è difficile. Ok, ok. Sì, sì, lo so. Ciò. No, non c'è nessuno, però non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non, non è animato, non è lasciato il mio morto Non, non è necessario mochi, increases pauna La scuola è amp buna La scuola è assenza Maybe non è facile è un uomo a terra! uomo a terra! spostiamoci! libera! ora sei come noi vai! sono andato a terra! uomo a terra! uomo a terra! uomo a terra! uomo a terra! armate ragazzi! armate! pure per armare è difficile eh? giocato una levetta! pure per armare è difficile si 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 dove è il 200? gnaaa! soldato a terra! ripeto soldato a terra! e' il suo lato! e' il suo lato! e' il suo lato! e' il suo lato! uomo a terra! no! da dove cazzo mi ha preso quello? no penso di no! si Spanko Tu vuoi Jamaica? Libera! Ma te aiutai Ero me di lì 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 Nooo Ma che velocità C'è uno a un altro Sì A me è mai avvenuto A te E trovate che non c'è nel mondo Ero me di lì Ma che cazzo Ero me di lì Ero dietro di te Ero me di lì Ero me di lì Ero me di lì Ero dietro di te Che cazzo E' accoltelato E subito l'ho accoltelato Non è morto E lei mi ha accoltelato subito Ero me di lì 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 Ann ma lo volevo spara a raccosti ancora Eeeh! Madonna come ha dato cazzo con te le due volte di seguito, cazzo! Cerca di salvare più! Cazzo, due volte di seguito, d'accordo! L'hanno preso quella granata ragazzi! Sì, sale da sonri! Sì, dove si? Sparta lui! Arriva, arriva! Soltate a terra! Nooo! Ma che ne so sparta! Eeeh, libera! Alza! Arrivano qua, da questo lato! Nostro lato! Sparta! Sparta! ma non c'è una casa di lusso no 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 ecco basta arriva la vendetta e come cazzo ha fatto questo qua che non l'ho decata libera coraggio stai bene torna sul cazzo come sul contello prima di te e 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 l e e si 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 ma mi manda tu due vuote qui come quel tempo prima manca tu se tendo metri e 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 dietro dietro non c'è più speranza ci siamo ritirato toro mani bella mani bella vada a fare non è giù non è giù ah no no dove qua c'è anche a giù giù è il cubo passato uuuuuh è un gatto un cubo ok ce ne c'è E' un momento che lo divertì, perché lo trovo difficoltoso, capito? bella 18 non penso, non penso mamma non penso, non penso, non penso, non penso a una carica esplosiva che? ahhh vabbè a me no Bello, grazie Oh, crap Il calcone, il calcone. Il calcone, il calcone. Il calcone, il calcone. Il calcone, il calcone. 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 Per... per il ferro Poi? Poi? Sono andato a terra! Sono la vendetta! Stronzo! Grupo 2, qui pugnale Gli americani ti ritirano, bel lavoro Non fai un pupu come se non fosse niente Prendi Non fai un pupu Mac篇 Nel Sono molto vittime, quanto ormai c'è un mal di testa. Sono molto vittime, sono molto vittime. Sono molto vittime, sono molto vittime. Sono molto vittime. Sono molto vittime, sono molto vittime. Sono molto vittime, sono molto vittime. 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 molto vittime. Sono molto vittime. Sono molto vittime. Vittime. Sono molto 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 vittime. Vittime. Oh, eccolo, 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 eccolo! non riesco a salvare, forse domani ma porca troia, non mi riannima, mi si blocca non mi hai dato il filibratore, mi rimane bloccato guarda qua, guarda qua, guarda qua, è sparito davanti torna sul campo Il Vito di Pina Ora, caro dei nostri, ci stiamo pure Il Vito di Pugli È Pagliamento Chi vuole appagliare? Guarda, continua Guarda, continua E' andato via quello, ecco perché muoiono. Edwin, buona partita. Adesso non laga più la partita, perché devi far lagare la partita. Adesso muoiono. Che cazzo che queste cazzate usano questi. Quello merda usano per giocare. Uno contro uno vuole fare Spartacus. Ma vaffanculo Spartacus. Lì è qua. Come che andato via Edwin, che non laga più la partita. Come che andato via Edwin? Ti fai una partita? Che il garage. Molto conosco. Vai. Oh no perché. va dietro alla fila nuova sei imparato subito sei fatta mica a fila nuova e subito hai imparato adesso gioco io così ma l'ho rimessa dai ma eccolo qua eccolo qua eccolo qua eccolo sicuro il culo da dietro ora non l'ho rimessa la mia assa la mia assa la mia assa la mia assa che imparato allora non tengo un computer non è allora sto riscaricando a scatare la mano a scatare la mano Scusi, gente. è rimasto solo spartano attenzione alla mira vieni vieni forse deve a casa vediamo un po' no non vieni 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 un po' vieni tutta vien vieni 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 Soltate a terra! Soltate a terra! Spostiamoci! spostiamoci si 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 non mi scrive la caca Nemesis ma chi è questo? mi sta scrivendo manco lo calcolo ma chi è? no, no, no vabbè, vabbè 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 ok in dietro, libera ok ok dai 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 per me è andato qua dietro no no Fondarsi Bambina Si Si Mi voglio sempre venire Si Io ero rotto E questo signifia avere il cane Il cane è così Cosa Tutto Non ti facevo Non è una spazio Ma questo è uno spazio L'ho pregato Quello faccio pure io L'ho pregato Vado a armare Così non perdi i cortelli Armiamo Devi armare Sennò perdi i cortelli Che fa? Va vero Non lo sapevo Che senso cambiarlo? Devi cambiare il personaggio Non lo sapevo Non lo sapevo Cazzate l'avrà spinto come a me Anche le americani si tirano, bel lavoro Cazzate l'avrà spinto come a me Cazzate l'avrà spinto come a me Non lo sapevo Non lo sapevo Non lo sapevo Non lo sapevo Aspetta l'avrà spinto come a me Oh niente Sì 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 un'altra parte non è vero non è vero non è vero ci servira per sempre quando non è vero vado qua vabbè ah vabbè vedo che questo il coglionato non ho gioco non ho paura il coglione sta a scrivere che c***o vuole ma che c***o mi ha scritto un sacco di roba ma vaffa il c***o un'altra volta spartacus ma va a c***are ma vaffa questo è coso il c***o è bruc il croccio di bruc ma questo è bruc questo è bruc questo è bruc bruc ma che c***o vuole ecco perché mi scrive non è vero ma che c***o vuole questo è bruc ma che c***o vuole ma che c***o vuole non è vero ma che c***o vuole ma hai visto ma hai visto hai conosciuto si lui dai è bruc ci sono è rilascizzi non è vero sinistra buona notte ma va ah su questo non è vero ma va a c***are Ma che cazzo lo conosce? Io non lo conosco, ma che vuole? A me mi scriveva, ma che vuole? A me mi scriveva, ma che vuole? Bruco, è Spartacus. No, non è bro, ma non so chi è?